Una manifestazione per dire no all'accorpamento dell'Ares 118 di Frosinone e Latiena. Quali sono le motivazioni che vi hanno spinto di essere qui davanti alla sede dell'Ares? Innanzitutto i contorni della vicenda che sono stati trattati con una superficialità estrema, disarmante direi. Dietro il lavoro del 118 si cela una produttività dal punto di vista degli interventi, una professionalità che in oltre 30 anni ha consentito a queste persone di salvare molte vite umane. È una provincia molto estesa, è una provincia composta da 91 comuni e crediamo abbia la necessità di avere un presidio per l'emergenza ospedaliera sul luogo. Anche il 118 non è un mero call center di promozione di compagnie telefoniche ma si tratta di un servizio al cittadino molto importante. La conoscenza del territorio e anche delle situazioni geografiche complesse che stanno in questa provincia merita sicuramente di lasciare il 118 in questa provincia di Frosinone. La provincia di Frosinone è attraversata dal tratto stradale tra i più pericolosi d'Italia, abbiamo visto anche ieri le conseguenze e quello che può accadere. La provincia di Frosinone è attraversata dalla linea superveloce, è una zona altamente sismica, tutto questo in più rispetto a quella che è la provincia di Latina. Quindi mi chiedo come chi ha deciso, abbia potuto prendere una decisione senza questi dati così fondamentali, senza contare tutto il resto che sicuramente ha una sorta di importanza fondamentale come la qualità della telefonata. Qualcuno ha definito che è come spostare soltanto un filo. Beh, io a chi ragiona in questo modo probabilmente dovrebbe fare un esame di coscienza e di mettersi dal ruolo che occupa di consigliere regionale e andare a fare ben altro, perché poi oggi la politica è anche capire, comprendere amministrativamente e tecnicamente come alcune cose funzionano e non soltanto pensare di poterlo fare perché si ricopre un ruolo. La centrale operativa 118 di Frosinone, che è gestita interamente da persone infermistiche qualificate e con formazione specifica e con esperienza soprattutto pluriannale, è in ogni caso il centro nevralgico di quello che è il soccorso sanitario in provincia e soprattutto si interfaccia anche con tutte le altre istituzioni provinciali, vedi carabinieri, vigili del fuoco, protezione civile, prefettura e quant'altro. Basta tagli, non ne possiamo più. Questo è gravissimo, questo accorpamento che è un ulteriore taglio risponderanno gli operatori di Latina, che non conoscono il nostro detritore in quanto è differente ed è molto complicato già adesso per gli operatori, con il rischio di un grave ritardo nei soccorsi che anche i nostri figli potrebbero perdere la vita, con questo ho detto tutto. La politica regionale sta portando sempre un accorpamento solo e esclusivamente per Latina, Frosinone da sempre dimenticata in tutto e per tutto, ogni giorno è una novità, adesso è questo il 118, siamo in attesa delle prossime e prossimamente ne vedremo ancora delle belle, noi siamo qui e cerchiamo di portare la nostra forza per far sì che tutto questo non avvenga. È inutile che le altre stanze romane dicano che è solo uno spostamento di telefono, non è vero, non è vero assolutamente. Quali possono essere le conseguenze per i cittadini di un vostro spostamento, le ripercussioni insomma sul territorio? Secondo me è indispensabile anche la conoscenza del territorio, la conoscenza dei settori dove sono allocate le ambulanze, le postazioni. Non so se un operatore che non è mai passato dalle nostre parti con tutti questi paesi roccati, ci sono posti che raggiungiamo dopo 40 minuti, ci sta il territorio di Cassino che ha 21 comuni, Cassino soltanto è raggiungibile in 5-10 minuti, gli altri bisogna sapere il territorio, i riferimenti, io stessa ci ho lavorato, altri colleghi sono arrivati in console dopo aver lavorato sul territorio. Siamo dei professionisti, ci siamo preparati, ci siamo messi in gioco, ci abbiamo dato anima e cuore, stiamo facendo 12 ore da 10 anni, essere trattati così veramente mi irrida parecchio. Io sono qua da poco, però ho visto che ho un lavoro molto complesso e comunque serve una grande professionalità e anche una conoscenza del territorio, anche del dialetto del posto, perché molte volte ci sono delle persone molto anziane che non si sanno esprimere e quindi è una popolazione anziana. Mi sono resa conto che è un lavoro abbastanza complesso e complicato. E quindi serve giustamente essere una persona del posto, io sono un'infermiere della medicina e quindi vedo questi problemi quotidianamente, queste persone anziane parlano quasi esclusivamente di dialetto, non essendo del posto non è facile capirli. Quindi io ritengo che come minimo questo trasferimento porterà un grave disagio alla popolazione anche in termini di minuti e quindi in termini di vita umana.